Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Presso il Parco Geo Minerario Le Petroglie a Ripi prosegue fino al 25 febbraio con apertura ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.30 la mostra The World of Dinosauris con oltre 50 modelli di dinosauri a grandezza naturale. Venerdì 10 a Frosinone alle ore 18 presso la Villa Comunale inaugurazione della mostra Tommaso e Donatella Gismondi Paralleli a cura di Alfio Borghese. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i giorni fino al 26 novembre. Sabato 11 ad Alatri appuntamento con In Cammino nella storia del territorio camminata da Civita di Alatri alla Badia di San Sebastiano con ritrovo alle 7.45 presso l'Acropoli. l'inaugurazione del sentiero Don Giuseppe Capone e partenza della camminata. Ad Aquino alle ore 18 nel Borgo Medievale cerimonia di apertura del villaggio di Babbo Natale, la magia di Natale con l'accensione delle luminarie giunte alla quarta edizione e a seguire grande fiaccolata accompagnata dagli artisti di strada con la banda orchestrale. Il villaggio resterà aperto fino al 26 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 e il sabato e la domenica fino alle 22. Tante le attrazioni proposte nel Borgo insieme al mercatino di Natale alla fabbrica dei giocattoli e nei fine settimana eventi e spettacoli per grandi e piccini. A Villa Santo Stefano dalle 19.30 nel centro storico si terrà Sapori e Colori dell'autunno, percorso enogastronomico e degustazione del vino novello. A Campolia Pennino sabato e domenica appuntamento con la nona edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, bianco e nero pregiato. Ad Arce sabato e domenica torna l'appuntamento con le cantine di San Martino dove ogni mosto diventa vino, apertura delle cantine sabato alle 19 e domenica alle 12. Domenica 12 a Terelle dalle 10 appuntamento con la 35esima edizione della Sagra delle Castagne. A Pofi sempre domenica dalle ore 12 in piazza Vittorio Emanuele appuntamento con la seconda Sagra della Patata organizzata dalla Proloco di Pofi. Per inviare le vostre segnalazioni chiamate al numero 0776 72 8035 oppure scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it